Per variare la dinamica del suono dobbiamo intervenire sull'ampiezza dell'onda acustica. Questo è determinato dalla vibrazione del lancia. Per fare ciò dobbiamo controllare la forza e la quantità nell'emissione. Oltre che all'emissione dobbiamo prestare particolare cura all'impostazione. Un'ottima sinergia tra l'emissione diaframmatica e l'impostazione delle labbra ci permette di controllare l'escursione dinamica e in contemporanea la qualità di suono. Per suonare pianissimo abbiamo bisogno di una piccola quantità di aria ma molto ben concentrata. Invece per suonare un fortissimo abbiamo bisogno di una notevole quantità di aria con molta potenza. In conclusione un ottimo controllo della respirazione diaframmatica e dell'impostazione ci permettono di eseguire notevoli escursioni dinamiche.